Il Dromos, ossia il corridoio di accesso di un'antica tomba etrusca. Siamo nella necropoli, nei pressi di Sarteano. È una tomba di IV secolo, appena scoperta, la prima volta che accoglie una truppa televisiva. All'interno ci sono affreschi, con figure enigmatiche, inquietanti, che colorano e caricano di un'atmosfera religiosa e misteriosa questa ultima dimora di un'antichissima famiglia etrusca di questa zona chiusina. Secondo la tradizione etrusca, al culto dei morti era conferita grande importanza. Le anime dei defunti venivano condotte nell'oltretomba, dove avrebbero incontrato creature mostruose, pronte a traghettarle verso una nuova vita simile a quella terrena. Le tombe erano perciò costruite sul modello delle abitazioni. Erano case per una nuova ed eterna vita. Questo scavo, una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni in Italia, è il punto di partenza del nostro diario di viaggio. Una lunga scia che parte dalla nave Argo e dalla sua avventura alla ricerca del vello d'oro, fino al vascello fantasma dell'olandese volante. E poi una ricerca tra i più grandi monumenti dell'antichità, dall'acropoli di Atene alla tomba di Tutankamon, dalla Domus Aurea alla Villa Adriana. È il diario di viaggio di Stargate, linea di confine. Grazie a tutti. Ed eccoci all'interno, c'è un lungo corridoio, quasi 7 metri, che immette nella camera, di quasi 4x4, la camera funeraria. Ovviamente tutto l'arredo è stato depredato nei secoli passati, perché questi luoghi sono stati riutilizzati. Durante il Medioevo si sono trovate tracce di abitazioni proprio all'interno di queste tombe, che erano riutilizzate come case nei periodi più poveri, nelle epoche successive a quelle della civiltà che ha costruito queste meraviglie. Ma per fortuna si sono conservate le pitture, gli affreschi come questo, stupendo. C'è una scena fra due uomini che si scambiano gesti affettuosi, forse padre e figlio. Sono distesi sulla cline, sul divano treclinare, cioè del simposio, del banchetto. Un banchetto che si svolge nell'aldilà. Ma nel resto della tomba ci sono anche altre raffigurazioni che evocano appunto il mondo ultraterreno, come questo grande serpente a tre teste con tutte le sue volute, una specie di idra con queste creste rosse sul capo, e poi sullo sfondo due ipocampi, evidentemente uno è stato distrutto nel corso dei secoli. La sensazione di modernità e quasi l'impatto fumettistico che dà la nostra tomba è dovuta al fatto che le scene raffigurate si datano in un'epoca molto successiva alle consuete scene arcaiche a cui siamo abituati, soprattutto a quelle che vediamo nelle tombe di Tarquinia, che sono riprese dall'arte attica e ionica. Qui siamo in una pura espressione artistica etrusca, quella appunto del quarto secolo e dell'età ellenistica, e quindi la componente della vivacità dei colori, della linea di contorno nera e di questi caratteri dei volti molto accentuati danno questa sensazione appunto di una pittura di tipo fumettistico. Ed ecco il sarcofago che conteneva appunto i resti del defunto, che era figurato qui, disteso sulla parte superiore. Manca la testa, forse è stata tagliata e venduta, non è da escludersi. Il restauro si è limitato ad integrare con dei materiali che rendono evidente l'aggiunta, per distinguere dall'originale, però in modo da restituire in generale la forma del sarcofago stesso. Dove è interessante possiamo notare la forma del letto triclinare, cioè questa specie di superficie di appoggio in realtà è immaginata come una cline, cioè come il divano da prando su cui gli antichi consumavano i loro pasti, i loro riti sociali, i loro simposi. Qui vediamo appunto i piedi della cline e qui ne vediamo un'altra appunto quasi in sovrapposizione. Quindi anche qui gli etruschi che cercavano di prolungare o di proiettare nell'altro mondo la loro vita quotidiana che vivevano abitualmente. Qui su questa parete invece è l'affresco che l'ha resa famosa questa immagine, soprattutto il demone rosso che ha fatto il giro del mondo. La prima cosa che notiamo purtroppo è questo disastro proprio al centro dell'affresco, sono le picconate inferte dai cacciatori di tombe che probabilmente entrati al buio hanno cercato di sondare la parete per vedere se ci fossero delle camere dall'altra parte che contenessero qualche cosa di prezioso. hanno ottenuto solo il risultato di deturpare per sempre questa magnifica immagine. Un'immagine molto inquietante, rappresenta appunto questo demone lanciato a folle corsa sul suo carro, trainato da quattro animali mostruosi perché potrebbero sembrare a cavalli a prima vista, ma se osserviamo le zampe, sono zampe di felino, hanno gli artigli. E poi vediamo queste strane criniere sui dorsi, questi occhi dilatati, ma soprattutto la figura del demone che impressiona, queste zanne da animale sanguinario che gli sporgono dalla bocca, questi capelli di fiamma agitati dal vento nella corsa e questa strana barba, si direbbe, questa parte superiore di una barba che è dipinta circa a metà del viso, gli occhi sbarrati, la fronte corrugata e probabilmente il demone che porta le anime nell'aldilà. Potrebbe essere identificato con Carun, che è il corrispondente etrusco del greco Caronte. E quindi un'altra situazione questa, un'altra immagine, un'altra atmosfera della morte. Abitualmente noi pensiamo che gli etruschi avessero questa idea, tutto sommato, idilliaca dell'aldilà, un prolungarsi delle loro abitudini, un diffondersi verso l'eternità del loro meraviglioso simposio, dei loro banchetti, dei loro riti sociali. Ma queste immagini così terrificanti ci fanno pensare e richiamano alla nostra memoria che la morte è soprattutto paura. E di mostri paure, viaggi senza fine, parla il primo racconto del nostro diario di viaggio. È la storia dell'olandese volante e del suo vascello fantasma.